ciao ragazzi allora stamattina sono venuto a vedere qua come cresce la cucciolata di questi super ribelli che non hanno per nulla intenzione di farmi fare il filmato sono qui anche con la mamma che lei dice gli hai voluti adesso te li tieni e loro a suon di leccate mi distruggono io vi dovrei fare un filmato serio cosa che non riesco a fare perché questi loro da me vogliono praticamente adesso mangiare aiuto oggi secondo me il peggior filmato che abbiamo mai fatto è oggi il cappello va messo a posto adesso devo lasciar passare un po di questa loro esuberanza se no non vi posso parlare vero lince non possiamo parlare un po seriamente ecco lei cambia anche un po te allora l'argomento del quale vi voglio parlare oggi anche sui dubbi che ce la farò e il rischio che questi cani guardate che mi comprono di leccate possono poi a un certo punto come cani da guardia aggredire i familiari come vedete è quasi impossibile credere che un cane così possa poi da tutte le leccate che mi do adesso e quest'altro pure ai 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 possono poi aggredire i familiari però tanti hanno paura di questo e questa infatti è la prima delle dieci paure che io chiamo immaginarie è proprio quella che io prendo un cane da guardia lo prendo per che mi protegga perché custodisca la mia famiglia impedisca intrusioni indesiderate e poi temo anche visto tutte le cose che leggo in giro che sento a dire eccetera che poi questo cane ecco questi che adesso loro non vogliono che io faccia il filmato che mi vogliono con la loro lingua spalmare tutto non proprio leccare fino all'ultimo centimetro possano diventare aggressivi coi familiari allora perché c'è questa convinzione io riflettevo bene questa mattina c'è questa convinzione specialmente perché poi la cinofilia si divide un po in quattro filoni che sono quelli poi che sono riusciti a convincere le persone fare venire in mente appunto questi concetti che il cane cani così affettuosi nel momento in cui diventano la guardia possano anche diventare pericolosi per i familiari ed è proprio su questi concetti che hanno fatto poi molto come dire leva determinati allevatori di determinate razze nel dire signora mi raccomando lasci perdere il discorso del cane da guardia perché i cani da guardia potrebbero poi mangiarli i bambini ecco allora guardate se io dovessi in qualche modo andare a estrapolare questi quattro filoni che vi stavo parlando prima direi innanzitutto si è voluto con ci sono volute convincere le persone si è partiti anni fa con questi film americani eccetera perché c'erano grandi interessi dietro a tutto quanto che il cane amasse l'uomo e quindi che bastava in qualche modo amare anche noi il cane spendere innanzitutto i tanti soldi per lui in cure in oggetti in mangimi artificiali eccetera quindi lui mi ama io lo amo e dovrai essere a posto ecco perché poi quando casca l'asino c'è nel senso che io ho amato tanto il cane ma nello stesso tempo lui dopo mi ha aggredito un bambino pure aggredito me io inizio a dire no ma allora i cani sono animali che possono impazzire da un momento all'altro perché io lo amavo tutti mi hanno detto che bastava che io amassi il mio cane lui mi avrebbe amato sarebbe stato tutto a posto io tutto quel che c'era glielo comprato ho fatto le vaccinazioni lo sverminato insomma ho fatto sempre tutto possibile le visite di controllo più di così non potevo fare lo facevo dormire nel letto sul divano lo portava spasso insomma è diventato veramente un membro della famiglia adesso lui mi ha aggredito e quindi probabilmente questa è stata una di quelle motivazioni che hanno iniziato a spaventare le persone per dire ma non è possibile che sembrava così facile ma poi invece c'è qualcosa che non funziona un'altra cosa è che fra il cane il padrone chi è che paga paga sempre a livello monetario paga il padrone quindi si è impostato un'educazione cinofila una addestramento una fornitura in generale di servizi dove si è sempre detto ok tu mi dai i soldi io cercherò di convincere questo cane che tu hai adottato a soddisfare i tuoi desideri le tue aspettative adesso lince se ne vuole andare perché lei adesso i cuccioli sono arrivati a un certo punto come tutte le mamme dopo un po sono anche un po stanche allora ecco che loro se ne approfittano di me quindi questo concetto ecco guardate cosa sta rimanendo dei miei pantaloni io quando arrivo qui mi metto in loro balia e se non mi sbrigo a fare il filmato non esco vivo ma non perché loro sono aggressivi perché loro mi vogliono talmente ai 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 mi mordono addirittura l'orecchio quindi in sintesi il secondo è un po questo cioè ai 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 il terzo cioè è perché noi ci siamo ormai convinti ma anche lì sotto c'è un grande interesse che è una questione di razza abbiamo diviso il cane in razze come fossero un po le marche delle automobili quando invece il cane una specie cioè partono tutti quanti dai soliti metici poi semplicemente peggiorando questi metici si sono fatte le razze ma questo è un discorso che approfondisco ai miei corsi già dal videocorso alle giornate di approfondimento faccio un po capire che insomma tutto sto discorso delle razze è un discorso ecco mi sta lavando l'orecchio proprio al meglio non si può e questo è il terzo il quarto e che c'è in poche parole questo mercato libero chiunque da domani può vendere cuccioli chi è che non avendo un maschio una femmina non fa una cucciolata e dicendo che i cani delle razze sono tutti uguali quindi conta molto scegliere una razza piuttosto di un'altra si mette a commercializzarli offre un petigree e tutti partono sono convinti che avranno questo cane che perché di questa razza e per un po di altre cose darà i risultati desiderati ma lasciamo perdere i risultati nella guardia insomma che poi quelli ho già dedicato altri filmati parlando del discorso di affidabilità perché di questa razza è più potenzialmente affidabile perché non è di questa razza ecco non è più il cane affidabile qual è invece la verità il motivo che io chiamo questa paura cioè che il cane possa in qualche modo aggredire uno dei familiari guardatelo adesso ho fatto anche l'altro orecchia che possa aggredire un familiare io la chiamo una paura immaginaria perché come avete visto se questi cuccioli che adesso tutti mi vogliono leccare a un certo punto qualcuno mi vorrà mangiare ma di chi sarà la colpa possiamo poi mica dare la colpa a questi cani che adesso mi copiono di leccate sono al massimo dell'affettuosità a loro cavandocela dicendo ah ma ogni tanto qualcuno impazzisce animali impazziti mai visti animali impazziti potrebbero forse nascere già con delle patologie ma quando noi li vediamo così praticamente disponibili affettuosi socievoli con chi è il suo proprietario datore di cibo all'inizio della loro età all'inizio del loro sviluppo cosa può trasformarli poi successivamente in quei cani che a un certo punto possono aggredire i familiari non è assolutamente né la razza né il diciamo patologie caratteriali del cane ma è il sistema che noi abbiamo utilizzato praticamente con questo vuol togliermi il cappello nel crescerli e nel gestirli da cuccioli poi nella fase adolescenziale e poi nella nostra gestione quando saranno adulti ad esempio una cosa che vi posso dire voi vedete chi mi conosce cosa io non mi lascio fare dei cuccioli quando sono piccoli ecco quanti vi avrebbero detto no al cucciolo devi partire subito a insegnargli una certa educazione devi vedere deve capire che tu sei il capo eccetera eccetera ma questo è tutta aria fritta e tutte sono tutte cose che non contano nulla so benissimo che la cinofilia della fuffa è basata su questo ma chi mi conosce ormai da tanto tempo sa che io gestisco cani di carattere sa dove faccio partire i miei cuccioli sa come li allevo e sa dove arriviamo che non arriviamo solo che questi cuccioli sono poi super affidabili con me ma addirittura prendo cani che si sono verificati mordaci magari a tre quattro anni coi proprietari poi da quando gli inizio a gestire io diventano poi quei cani che mi vedete potete andare a vedere altri filmati che hanno questo ottimo rapporto con me quindi in sintesi questa paura che il cane a un certo punto possa gradire uno dei familiari è reale no vi posso dire no nel modo più assoluto è ovvio che è possibile che un cane possa aggredire un familiare se voi fate il fai da te se voi prendete un cucciolo qualsiasi se voi immaginate che invece di seguire tutto un training con il nostro cucciolo possa essere sufficiente da retta un po di informazioni che trovate sui social possa essere sufficiente da retta a quelle quattro cose che vi dice chi vi vende il cucciolo in quel modo e specialmente che un cucciolo possa valere l'altro ma ancora più del cucciolo che chi vi assisterà nel tempo possa essere sostituito da chiunque quindi questa paura che molti hanno che il cane possa a un certo punto aggredire un familiare è una paura immaginaria perché c'è il cento per cento di probabilità che non avvenga e quindi è veramente assurdo andare a nascondere in qualche modo la reale paura che qualcuno vi entra in casa e allora a quel punto sì che non potrete poi far più niente che potranno poi fare invece di voi tutto quello che vogliono quella invece una paura vera ecco rinunciare a mettersi al sicuro perché vogliamo in qualche modo pensare con questi frugoletti che io ho allevato con tanto affetto e che loro adesso mi dimostrano praticamente di tutto a un certo punto potranno poi diventare aggressivi con me o aggressivi con i miei familiari questo potrà solo accadere se io non saprò costruire un rapporto con loro non sarò seguito da chi se ne intende veramente di questi cani farò tutto a casaccio ma specialmente mi baserò su tutto ciò che si dice della cinofilia alle vero questi cani con quello che si dice per sentito a dire tenendo presente ciò che vedo nei film ciò che mi dicono le persone e ciò che posso leggere in giro no va fatto un percorso di un certo tipo e la stessa affettuosità che questi cagnetti questi cagnolini danno a me in questo momento nel momento che io li trasferirò a voi anche se avranno un anno potranno continuare sempre a darla a voi se applicate determinate regole quindi l'antidoto al rischio che un cane la guardia possa diventare aggressivo con voi e o con i vostri familiari e unicamente l'applicazione di determinate regole che bisogna intanto conoscerle ma specialmente sapere come metterli in atto ok vi ringrazio tanto per avermi ascoltato domani se ho tempo dopo domani vi parlerò della seconda paura immaginaria e pian piano vorrò smontare tutte queste cose che a volte bloccano le persone nel volersi dotare di un cane da guardia e quasi quasi preferiscono sottoporsi al rischio di poter subire un'intrusione che di quella allora si potrà parlare di un rischio vero e di una paura reale ok vi saluto ancora e a tutti buona giornata allora Grazie.